Migliori profumi per Halloween Per una serata è un costume un po' più sexy, pure excess di Paco Rabanne Un po' sul dolce, però comunque molto molto sensuale Se invece avete un costume un po' più sul dark O qualcosa come un stregone della foresta Qualcosa che c'entra comunque con i boschi Vi consiglio black afgano oppure nero afgano Che ha anche una nota di verde al suo interno Se invece puntate alle performance, quindi che duri tutta la notte Ma che vi dà anche complimenti Andate sul classico Victor & Roll Spicebook Extreme Questo è perfetto per questo periodo dell'anno Se invece avete qualcosa di un po' più daring Che osa un po' di più Qualcosa di un po' più dark, di estremo John Barbatos Dark Rebel Questo sa di Batman se guidasse un Harley Davidson